Se l'avventura fotografica che state portando avanti è giunta a un certo stadio di maturità diventa molto probabile che sorga in voi il desiderio di condividerla con il resto del mondo e quindi pubblicare le vostre immagini per ottenere il meritato riconoscimento oppure semplicemente la visibilità necessaria a procurarsi dei clienti. Nel corso di questo video vado a raccontarvi quella che è la mia particolare esperienza e opinione su come vanno condivise le foto e quali sono le piattaforme migliori per farlo in maniera efficiente. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia in particolare vado a parlarvi di come fotografia e social media sono ormai un tutt'uno e quindi noi fotografi sia professionisti sia amatori ci troviamo a dover scendere a patti con queste piattaforme che spesso non abbiamo chiesto noi di avere in maniera così pervasiva nella nostra vita e ciò non di meno siamo costretti a utilizzarle a scegliere quali utilizzare e come utilizzarle per pubblicare il nostro lavoro in maniera tale da avere i like che desideriamo se questo è quello che abbiamo in mente oppure se siamo dei professionisti per cercare di procurarci dei clienti e in ultima analisi portarci a casa lo stipendio. Comincio subito col ricordarvi che se argomenti di questo tipo vi interessano la cosa migliore che potete fare è interrompere la visione del video per un secondo e andare a cliccare il bottone iscriviti qui sotto attivando anche la campanella. Immediatamente dopo potete cliccare un bel like a questo contenuto e dopo potete riprendere con la visione di questo video. Vi ricordo anche che è già online un contenuto in cui andavo a spiegarvi che cosa sono i profili colore e come si utilizzano quindi andate a recuperarvi quel contenuto perché vi servirà a sapere che cosa è stato detto sui profili colore per il web per la stampa. Molto bene comincio col dirvi che nel momento in cui andiamo a realizzare delle fotografie è molto probabile che le dobbiamo poi esportare appositamente per il web. Che cosa significa questo? Significa che nel momento in cui scattiamo una fotografia che stiamo usando una macchina fotografica che stiamo scattando in raw o che stiamo usando un cellulare può essere una buona idea andare a esportarla in una maniera consona a essere pubblicata su una piattaforma web di qualsivoglia tipo. Questo per il semplice fatto che noi non sappiamo esattamente o meglio possiamo saperlo ma dobbiamo fare un'indagine a quel punto per scoprirlo. Non sappiamo esattamente magari con che profilo colore e con che formato vengono salvate le immagini che noi andiamo a scattare. La maggior parte delle macchine ci consente di scattare in negativo digitale quindi ci consente di scattare in cr piuttosto che nef piuttosto che sony ha un altro formato proprietario insomma esistono diversi formati. Nel momento in cui andiamo a scattare dobbiamo esportare la nostra fotografia in un formato consono alla pubblicazione online che non è la maggior parte delle volte quello in cui viene salvato sulla memory card quando andiamo a scattare la foto. Quindi è compito nostro andare a prenderci il nostro file e andare a esportarlo in una maniera tale che possa essere pubblicato perché il file raw della fotocamera così com'è semplicemente non viene accettato dai siti web. Dobbiamo quindi andare a sincerarci primo che la fotografia sia bella quindi dobbiamo fare un minimo di sviluppo digitale. Dobbiamo andare a fondamentalmente fare due ritocchini su colore contrasto in maniera tale che la fotografia sia come noi la desideriamo perché quando è stata scattata viene salvata come è stata vista dalla fotocamera. Quindi dobbiamo andare a dirgli due cosine per renderla più simile a quello che vedevamo con i nostri occhi o a quello che vogliamo effettivamente comunicare se vogliamo una scena un po' artefatta e differente da come si presentava nella realtà. Comunque sono modifiche che andiamo a fare perché altrimenti la fotografia è grezza e poco accattivante. La seconda cosa che dobbiamo fare è andare a ridurre un pochino le dimensioni perché spesso e volentieri quando noi andiamo a scattare una fotografia è gigante rispetto a quello che serve per i social o anche per un sito web. Sto pensando per esempio a una fotografia da 30 megapixel. 30 megapixel è troppo anche per un sito web figuriamoci per i social media. Quindi dobbiamo andare a ridurla un pochino esistono diversi strumenti. Io vi cito squash che è uno strumento citato anche da google che è fatto apposta per comprimere le immagini senza perdere eccessivamente qualità quindi senza diventare matti con sistemi a pagamento software a pagamento. questo è gratuito è sufficiente caricare le immagini e si scarica una versione compattata per il web. Un'altra cosa che dobbiamo andare a fare che è molto importante è stabilire che profilo colore andiamo a utilizzare perché spesso e volentieri le nostre immagini vengono salvate con un profilo colore che non è adatto per il web come potrebbe essere adobe rgb 1998 un profilo che io utilizzo perché a me capita spesso di andare anche in stampa magari e quindi se vado in stampa quel profilo va bene è il profilo giusto in cui salvare le mie foto per poi magari convertirle in quadricromia mentre se io voglio uscire sui social devo usare il profilo srgb siccome non sono sicuro di come vengono salvate le mie fotografie al momento dello scatto è cosa buona verificare quantomeno la prima volta poi se sono già giuste questo procedimento può andare in automatico ma se sono sbagliate se per esempio sto salvando le mie immagini in adobe rgb 1998 è cosa buona che io le converta in srgb prima di andare a salvare l'export finale questo perché se io non utilizzo il profilo corretto nella fattispecie se utilizzo adobe rgb 1998 e pubblico direttamente sui social o su un sito quello che succede è che la mia fotografia viene caricata desaturata quindi vado a perdere un po di colore un po di vividezza semplicemente perché non ho applicato un profilo che i social media interpretano correttamente avrei dovuto dargli una chiave di lettura in modo da capire quali erano i colori che io volevo nella mia immagine è un passaggio veramente piccolo facile e breve però se noi non lo facciamo rischiamo di perderci delle cose un'altra cosa che a mio parere è molto importante fare è ottimizzare la fotografia per la piattaforma su cui la stiamo andando a pubblicare vi faccio l'esempio di instagram perché penso che lo conosciamo tutti quando noi andiamo a pubblicare una fotografia su instagram sapete che abbiamo i filtri che sono distruttivi devastanti possiamo applicare un filtro e vedere distrutto tutto il lavoro che abbiamo fatto sia in camera sia in post produzione perché lì viene applicato un filtro che distrugge tutto e trasforma la foto in qualcosa che originariamente non era secondo me è un peccato lavorare coi filtri ma noi possiamo andare a intervenire invece sulle modifiche dei singoli parametri e questa è una cosa molto furba secondo me da fare perché a quel punto noi non stiamo mettendo un filtro che fa roba i filtri di instagram fanno roba modificano parametri e noi non sappiamo nemmeno quali non capiamo cosa sta succedendo lo stesso filtro applicato a una foto può fare faville mentre applicato a un'altra foto può fare schifo quindi noi non sappiamo nemmeno bene come usarli quei filtri non capiamo nemmeno su che cosa vanno ad agire e quindi personalmente non mi sento di usarli perché una cosa non replicabile che sfugge al mio controllo non fa proprio per me mentre invece andare ad agire sui parametri singoli è una cosa su cui mi sento di fare affidamento perché quelli sono sempre gli stessi la luminosità la nitidezza il contrasto la vignettatura quelle sono cose che sono sempre le stesse a qualunque tipo di fotografia io le vado ad applicare dicevo è una cosa intelligente ottimizzare la fotografia per la piattaforma nel senso che a me capita spesso di dire va bene ho fatto la mia post produzione su uno schermo poi però quando vado a caricare la mia foto per esempio su instagram e passo da cellulare ci sono delle differenze perché il monitor è diverso addirittura io ho tre telefoni cellulari di cui due iphone e un samsung questo perché samsung era il mio vecchio che ho tenuto in funzione anche se è senza la sim ho un iphone dell'ufficio e un telefono mio personale io vi assicuro che su tre telefoni le foto sono completamente diverse sono diverse tra android e apple ma sono diversissime anche sui due iphone un iphone x e un iphone 11 quindi non sono neanche così distanti sono usciti a un anno e mezzo di distanza hanno un profilo colore del monitor completamente diverso così diverso che io faccio fatica a capire su quale dei due si vede meglio e come devo fare per dare le informazioni corrette a instagram in maniera tale che la mia foto si veda bene sul più ampio numero di device possibile ovviamente questo è un vecchio dilemma io mi ricordo dal mondo dell'audio si parlava già allora ma se io mixo la mia canzone perché sulle mie casse la sento in un modo sulle casse del mio amico la sento diversa perché la verità è che ogni postazione di ascolto è diversa ogni stanza è diversa e l'audio risponderà diversamente a seconda che lo utilizziamo con le casse con le cuffie in macchina con un impianto grande piccolo con o senza subwoofer non sarà mai uguale la canzone allo stesso modo una fotografia vista su un telefono di giorno sarà completamente diversa piuttosto che vista su un computer di sera sarà completamente diversa quindi noi possiamo andare a interpretare nella maniera migliore possibile i nostri parametri ma dobbiamo metterci l'anima in pace che una minima differenza ci sarà sempre quello però che possiamo fare è andare a cercare di avvicinare la nostra fotografia alla sua destinazione finale quindi se l'abbiamo lavorata su computer e avevamo una visione di un certo tipo nel momento in cui passiamo su smartphone lì siamo più vicini alla destinazione finale perché quantomeno gli smartphone avranno dei profili più simili tra di loro piuttosto che quelli di un monitor per cui quello che io vado a fare solitamente è che vado ad agire su due o tre parametri in particolare la luminosità dell'immagine e vado ad agire sulle ombre sulle luci sulla nitidezza e fondamentalmente basta quindi sono sono all'incirca quattro parametri il contrasto non lo tocco quasi mai la saturazione non la tocco quasi mai però andando ad agire su questi parametri e notate bene sto sempre in un range di più 15 meno 10 quindi cerco di fare delle micro variazioni non grosse non vado a più 100 non vado a meno 90 faccio delle micro variazioni per cercare di rendere la fotografia migliore sul tipo di schermo su cui la sto osservando in questa maniera vado a eliminare un po' di problemi di conversione dal monitor del mio computer al monitor dei telefoni su cui poi verrà fruita l'immagine quindi poi magari sarà meno gradevole se la riguardo da computer però sicuramente sarà ottimizzata per i monitor dei cellulari detto questo prendiamo in analisi le piattaforme su cui è possibile andare a condividere le nostre immagini sicuramente al primo posto vi devo citare instagram a mio malgrado perché è una piattaforma che a mio parere è assolutamente inospitale oggigiorno per i fotografi ricordo per chi non se lo ricordasse che instagram è una piattaforma nata appositamente per fotografi era fatta per condividere fotografie oggigiorno insegue solamente il profitto e quindi si è lanciata a capofitto all'inseguimento di una piattaforma cinese che qualcuno di voi conoscerà con il nome di tiktok una piattaforma che ha avuto il merito di lanciare il formato dei video verticali formato che ha avuto un notevole successo planetario tant'è che la maggior parte delle piattaforme social hanno deciso di copiare spudoratamente tutto quello che tiktok faceva instagram probabilmente è al primo posto per i copioni di turno che sta facendo esattamente le stesse mosse per cercare disperatamente di inseguire tiktok il risultato è che meta dopo aver acquistato la piattaforma instagram e aver acquistato di fatto la community perché a scrivere il codice ci avrebbero messo 20 minuti una piattaforma semplice da ricreare però loro hanno comprato la community ed era una community di fotografi dopo averla comprata hanno deciso che non valeva più la pena mantenere quella community e quindi hanno detto adesso buttiamo dentro tutti e dei fotografi chi se ne frega perché di fatto è questo che è successo instagram ha dichiarato che non è più una piattaforma dedicata alle fotografie ma è una piattaforma dedicata ai video verticali questo è il motivo per cui da un lato io non me la sento di dirvi che se volete condividere le vostre foto instagram è il posto giusto perché è una situazione assolutamente come dicevo poc'anzi inospitale per un fotografo nel senso che le fotografie verranno viste da meno persone rispetto ai video e quindi se voi volete stare su instagram la verità è che non dovete postare le vostre foto dovete creare dei video e quindi avete fatto tanta fatica a realizzare delle fotografie ma quelle non vanno bene dovete creare dei video in cui fate vedere qualcosa che riguarda le vostre fotografie fate vedere come le avete fatte magari e la cosa più importante di tutte è che non dovete parlare come sto facendo io adesso non dovete essere noiosi perché è una piattaforma giovane sbarazzina per cui dovete mettere una bella musichetta mettere delle scritte e poi dovete fare così e indicare le scritte e quello è il tipo di contenuto che dovete fare su instagram questo è il motivo per cui ho fondamentalmente l'ho abbandonato instagram e non mi interessa più quella piattaforma perché mettermi a fare il balletto con le maracas a me non interessa assolutamente quindi io sento che quella piattaforma non fa più per me ora qualcuno di voi starà pensando però ci sono dei fotografi che hanno anche un discreto successo su instagram sì sono anche molto bravi però attenzione è tutta gente che ha avuto successo ed è arrivata a certi numeri diversi anni fa per cui adesso siede sugli allori e si sta semplicemente godendo quello che ha messo in cascina negli anni passati partire da oggi e arrivare a quei livelli è pressoché impossibile e comunque ci si arriva solo a suon di balletti di certo non postando belle immagini perché tutti postiamo belle immagini ma non le vede nessuno se non facciamo dei video in cui balliamo quindi è molto complicato raggiungere certi numeri su instagram anche pagando è molto complicato esistono ovviamente delle alternative vi cito per esempio flickr che era un'ottima piattaforma finché è durata perché adesso fondamentalmente è una piattaforma in stato di abbandono era una buona piattaforma secondo me nel senso che manteneva una buona qualità delle immagini si potevano caricare in risoluzione piena e conservava anche i metadati ed era una piattaforma piacevole da visitare perché si vedevano le immagini belle grandi a risoluzione praticamente inalterata quindi era un buon posto per fotografi ed era una buona piattaforma per professionisti proprio dove il dettaglio la faceva da padrone perché era anche possibile scaricare le immagini in risoluzione nativa quindi non era male come piattaforma sicuramente adesso non ha più il successo che aveva una volta perché si sono spostati tutti su instagram essendo flickr rimasta una piattaforma solo per fotografi puri in questo momento non ha più tutto questo successo perché la gente si è spostata tutta su instagram a ballare un'altra alternativa era 500 pixels che è una piattaforma a mio parere molto bella qualitativamente alta dove ci sono tante belle immagini ci sono tanti bravi professionisti ha un vantaggio che è quello di poter vendere le immagini tramite get images se ricordo correttamente quindi è possibile segnalare alcune immagini e mandarle per la vendita per il canale per la vendita quindi ci sono anche questi piccoli bonus nascosti però anche lì fondamentalmente si tratta di una piattaforma con cui non si riesce a promuovere il proprio lavoro perché su queste piattaforme su flickr e su 500 pixels ci sono solo competitor ci sono solo altri fotografi difficilmente c'è gente normale che si appassiona al nostro lavoro un'altra piattaforma che vi cito è vero vero era stata lanciata come è stata lanciata devo dire in realtà anni fa però era stata rilanciata come l'anti instagram che si era detto che molti fotografi stavano spostando su vero perché instagram non era più posto per loro questo è vero se mi passate il gioco di parole nel senso che molti fotografi si sono aperti l'account su vero me compreso ce l'ho anch'io me lo sono fatto anch'io però quello che ho potuto constatare è che fondamentalmente non è il posto giusto per promuovere il nostro lavoro è pur sempre vero che su vero possiamo comunque avere il nostro bel numero di like perché c'è della gente magari che ci segue che prende a cuore il nostro canale però anche lì sono fotografi scappati da instagram e quindi non sono potenziali clienti se stiamo pensando a quello e difficilmente diventano nostri fan perché ci stanno mettendo like solamente perché sperano che ricambiamo un po come su instagram vengono proprio da instagram la matrice è quella per cui anche su vero è veramente molto difficile che riusciamo a raggranellare qualcosa di buono a questo punto come capite bene purtroppo instagram rimane la piattaforma migliore per promuovere il nostro lavoro semplicemente per il fatto che la gente è lì quindi se noi andiamo da un'altra parte non abbiamo più un pubblico su instagram non riusciamo a raggiungerlo questo pubblico perché sta guardando un'altra cosa però altrove non c'è proprio questo pubblico quindi tutto sommato instagram purtroppo è il male minore perché quanto meno lì c'è qualcuno purtroppo come vi dicevo postare foto è assolutamente inefficace bisogna postare delle grafiche dei caroselli esplicativi per cercare di catturare l'attenzione di qualcuno con delle informazioni oppure dei balletti passatemi il termine magari non sono dei veri propri balletti però se io vi devo fare così per indicarvi una scritta e poi così per indicarvi un'altra scritta fondamentalmente mi stai facendo ballare non sono scemo me ne accorgo ci stanno facendo ballare a me non va e quindi non lo faccio infatti il mio instagram è fermo lì è bloccato io non lo uso più non cresce non decresce rimane lì fermo ma immobilizzato se volessi farlo crescere dovrei mettermi a ballare con le maracas e dirvi volete fare una bella foto si fa così non lo voglio fare non voglio fare questa roba non mi non mi pagano per farlo non so per dire non mi pagano abbastanza ma la verità è che non mi pagano proprio quindi non esiste proprio youtube tutto sommato rimane secondo me una buona piattaforma per condividere contenuti anche di questo tipo perché vedo che c'è una nicchia di persone interessate alla fotografia abbastanza solida anche su youtube quindi secondo me rimane una buona piattaforma per questo tipo di contenuti però allo svantaggio che come potete ben vedere io non posso prendere le mie foto e fare uno slideshow qui perché non lo guarderebbe nessuno su youtube bisogna fare dei contenuti un po più articolati quindi è più complicato postare il proprio lavoro fotografico su youtube bisogna creare dei contenuti che portino un valore in più rispetto al dire to questa è la foto perché comunque questa è una piattaforma orientata al video da sempre quindi io non posso semplicemente sbattere qui le mie foto e sperare di avere chissà quale riscontro posso fare dei contenuti in cui vi racconto delle cose vi spiego delle cose delle tecniche dei tutorial e nel mentre vi faccio vedere delle foto e magari qualcuno di voi si ricorderà che oltre ad avervi regalato il preset per la nitidezza facevo anche delle foto discrete la speranza è sempre un po quella rimane comunque una buona piattaforma per questo tipo di contenuti ma è più complicata rispetto ad altre non basta postare le foto qui una valida alternativa una volta era rappresentata dalle piattaforme di microstock già fatto una playlist di video in cui parlo proprio di questo argomento di come è possibile guadagnare vendendo le nostre foto online ve la lascio linkata in card è ancora possibile le piattaforme ci sono quindi ci sono dei chiamiamoli dei social dove noi postiamo le nostre immagini invece di prenderci un like ci prendiamo dei soldini invece di prenderci il commento ci prendiamo qualcuno che la compra e quindi ci arriva una commissione ci arrivano dei soldi perché dico che era una buona alternativa primo perché non si arriva alla notorietà in quel modo cioè quello è un servizio quindi non è che diventi famoso l'idraulico non è che diventa famoso se fa mille rubinetti non è che ha mille persone che lo seguono ha semplicemente fatto mille lavori è la stessa cosa quindi su quelle piattaforme io vendo le mie immagini ma non divento famoso per questo ho semplicemente fornito un servizio e il secondo motivo è che una volta pagavano discretamente non voglio dire bene perché sarebbe una bugia però discretamente adesso pagano malissimo per cui laddove una volta magari uno si prendeva 7 euro a download 10 euro a download 20 euro a download adesso ti prendi 10 cents 10 cents in dollari e su cui poi paghi pure le tasse quindi non voglio arrivare a dire che non ne vale la pena perché io continuo a farlo sono dentro da tanti anni comunque dei soldi mi arrivano quindi io continuo a farlo cominciare oggi è molto proibitivo lo consiglio veramente solo a un disoccupato che non riesce a trovare lavoro è un'alternativa è comunque una cosa che possiamo fare per tirare su qualche soldo per comprarci strumentazione in più non dico di no però comunque è un percorso molto molto faticoso un buon metodo per promuovere il nostro lavoro ma questo vale solo per i professionisti sono le adv quindi fare pubblicità in particolare sulle piattaforme meta quindi principalmente facebook e instagram e sulle piattaforme di google quindi con le adv di google c'è la possibilità di promuovere il nostro lavoro quindi su google compriamo delle parole chiave che possono essere per esempio magari io faccio fotografia industriale a milano compro fotografia industriale milano avranno comprata in 100 e quindi avrà una base d'asta alta però se voglio entrare in quella nicchia quello è quella è l'asta da fare per comprare quella parola chiave in maniera tale che quando un'azienda cerca fotografia industriale a milano mi trova eventualmente può decidere di ingaggiarmi posso fare delle campagne anche sulle piattaforme di meta quindi ho posto una bella foto e poi gli do dei soldi per far vedere la mia foto alla gente che è una cosa a me lascia sempre un po' avvilito io tenete conto ho fatto il musicista per anni e ho smesso perché mi sono reso conto un bel momento che per obbligare la gente ad ascoltare la nostra musica dovevamo pagare e allora lì un bel momento dici no io non voglio pagare per obbligare la gente ad ascoltarmi o mi vuoi ascoltare o smetto infatti ho smesso qui fondamentalmente è la stessa cosa io non voglio obbligare la gente da casa a guardare le mie foto anche perché non credo che siano così interessanti io non sono un artista io offro un servizio quindi se questo servizio può essere utile a qualcuno mi arrivano già le commesse non ho voglia di pagare meta dare dei soldi a zuckerberg per sbattervi in faccia delle foto in maniera tale che uno su mille possa dire ah che bella questa cosa non me ne frega niente ciò non di meno rimane un metodo con cui possiamo promuovere il nostro lavoro vedo che tanti lo fanno tanti ci credono io personalmente non ci credo sulle piattaforme di meta proprio non ci credo per niente però è una strategia è una tecnica quindi si può fare anche quello bene amici ci fermiamo qui perché non voglio dilungarmi troppo in questo video però vi chiedo a questo punto fatemi sapere nei commenti se questo argomento vi interessa perché ho in mente di fare degli episodi successivi in cui vi faccio vedere delle strategie delle tecniche per postare i nostri contenuti in maniera tale da renderli accattivanti in maniera tale da cercare di portarci un po di pubblico anche se su delle piattaforme dove siamo profondamente svantaggiati come instagram o anche tiktok se per quello perché noi possiamo portare il nostro lavoro fotografico su tiktok però siccome instagram sta copiando tiktok su tiktok abbiamo gli stessi svantaggi che su instagram ovvero non possiamo postare la nostra foto la gente non vuole vedere la nostra foto su tiktok la gente vuole vedere noi che facciamo così e facciamo vedere la foto prima e poi facciamo così e facciamo vedere la foto dopo bisogna fare questa questa roba qui su quella piattaforma lì quindi abbiamo questo tipo di svantaggi ovviamente è possibile riuscire a fare qualcosa di buono però solamente se prendiamo la nostra dignità la nostra professionalità e le mettiamo da parte e ci mettiamo a fare i clown improvvisati quindi questa è una cosa che personalmente non mi appartiene sono troppo vecchio per queste cose lo lascio fare ai giovani lo lascio fare ai ragazzi che non hanno passato gli ultimi dieci anni a cercare di farsi una immagine una reputazione seria c'è gente che lo può fare perché comunque parte da lì io non mi sento di farlo quindi non vuole essere una critica a chi lo fa semplicemente io non mi sento di farlo e capisco tutti quelli che non hanno intenzione di farlo anche perché non mi verrebbe bene sembrerei un politico di turno di 89 anni che va su tiktok e dice ue allora ciao a tutti non lo voglio fare a questo punto vi ricordo che se volete essere sicuri di non perdervi il seguito di questa serie vi consiglio di iscrivervi cliccando il bottone qui sotto e attivate anche la campanella perché altrimenti potreste perdervelo lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che avete imparato qualcosa su cosa vi conviene fare con la vostra fotografia per finire sui social in maniera corretta signori grazie di aver passato un po del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.